Grande partecipazione anche da tutto l'Abruzzo alla manifestazione romana volta a chiedere lo sblocco degli appalti pubblici e l'apertura di nuovi cantieri. Un'adesione corposa a quella dei lavoratori abruzzesi del settore edile e delle costruzioni che hanno risposto la chiamata allo sciopero nazionale indetto dalla Fillea CGL, Filca Cisle e Fenea L'Uil. Piazza del Popolo gremita da oltre 20.000 operai mobilitati per sollecitare il governo ad avviare velocemente le grandi opere rimaste al palo oramai da molti anni. Abbiamo riempito Piazza del Popolo, l'appello è stato raccolto perché vi è una duplice necessità. Abbiamo un paese che ormai è fermo, segna meno 0,2% di PIL e contemporaneamente un paese da manutentare, infrastrutture da completare e di nuove da farne. E conseguentemente unire queste due esigenze è stato importantissimo. Sono partiti dall'Abruzzo 12 pullman, il che è un grandissimo successo. Contemporaneamente l'Abruzzo registra 20 miliardi di euro di lavoro edile che sono praticamente fermi. Dalla ricostruzione post terremoto 2009 alla ricostruzione post terremoto 2016-2017, da infrastrutture importanti, il completamento della termomare, ma anche opere come la prevenzione ai dissesti idrogeologici. Poi sono stati considerati, per esempio, che solo ristrutturare le case per il risparmio energetico darebbe lavoro a 600 mila persone. Sono quei temi che noi vogliamo in qualche modo declinare perché sono importanti per il paese e sono importanti per noi.